E si aprirà il prossimo 22 febbraio l'anno giubilare per la parrocchia di San Pietro di Biceglie. Chi la visiterà fino al febbraio del prossimo anno otterrà l'indulgenza plenaria. Sentite. Si intitola sulla barca di Pietro il ricco programma di celebrazione di apertura del giubileo della parrocchia San Pietro di Biceglie che prenderà il via il prossimo 22 febbraio. Abbiamo cominciato a pensare a questo anno già da un anno fa per cui nel corso dell'anno che abbiamo trascorso abbiamo un po' messo fuori tante idee comunitariamente e adesso abbiamo una serie di iniziative che aprono il giubileo. Ma la cosa che preferiamo dire è che non vogliamo tanto fare eventi quanto piuttosto, come si suol dire, avviare processi. Questo è il nostro intento. Era il primo marzo 1972, così Don Gaetano Corvasce, parrocco di San Pietro, in una comunicazione fedeli, quando sorgeva la comunità parrocchiale di San Pietro. Nei suoi 50 anni sono state tante le benedizioni e i segni della providenza di Dio. In questo anno giubilare, che ci apprestiamo a vivere, vogliamo trovare un nuovo slancio per annunciare il Vangelo, per vivere la carità e celebrare la presenza di Dio in mezzo a noi. Le iniziative che abbiamo adesso in programma immediato, abbiamo avuto innanzitutto due serate di riflessione sulla figura di Pietro. Una su Pietro nei Vangeli, un'altra su Pietro nella Chiesa Antica, per prendere maggior conoscenza con il patrono della nostra comunità. Poi il 22, festa proprio della Cattedra di San Pietro, avremo la celebrazione eucaristica che segnerà proprio l'inizio dell'anno giubilare. Pensate, un anno intero nel quale giorno dopo giorno chi vorrà potrà visitare la nostra Chiesa parrocchiale e ricevere il dono dell'indulgenza plenaria, che è un'opportunità di conversione. Questo anno sarà impreziosito dal dono dell'indulgenza plenaria, che Papa Francesco ha concesso tramite la penitenziaria apostolica, per coloro che visiteranno la Chiesa parrocchiale dal 22 febbraio 2022 al 22 febbraio 2023.